Ma ho tanta rabbia dentro perché purtroppo poi diciamo sempre la solita disgrazia, non sono disgrazie, non sono disgrazie ma sono cose che sono dettate dalle normative che i governi e non l'ultimo governo e la vita che ormai hanno accettato questo tipo di lavoro, nel senso che possono dare appalti, subappalti e quant'altro e poi succedono queste cose. Secondo il mio punto di vista non è una questione di formazione, non è una questione di più ispettori ma è una questione di rivedere la legge nazionale perché fermano questi scembi e purtroppo queste disgrazie che poi loro chiamano disgrazie ma per me sono morte annunciate perché ogni autore muore un lavoratore. Questa sorta di patente appunti per le imprese di cui si sta parlando al governo, voi cosa pensate? Ma secondo me tutto serve, per carità di Dio ci mancherebbe insomma, diceva qualcuno piuttosto che niente è meglio piuttosto ma non è con questi meccanismi che risolviamo il problema, il problema di fondo è questo, che dobbiamo abbattere gli appalti. Purtroppo Amadori ha applicato la legge ma sappiamo che questo è un lavoratore che non è un lavoratore Amadori ma è un lavoratore di un'altra società. Quindi o fermiamo questi oppure diciamo facciamo gli scioperi, facciamo le piaccolate, facciamo le patente appunti, mettiamo i più ispettori ma non è così. Faccio l'ultima battuta per dire che cosa succedeva. L'Italia è un paese dove ci sono opere mastodondiche che 400-500 anni fa sono state costruite con 18-20 anni di cantierato, senza un morto. Mi spiegate perché funzionava, perché non succedeva, c'era più formazione? Assolutamente no. C'erano più tecnologie? Ma penso sicuramente no. C'erano più ispettori? Boh non lo so se nel 1600 c'erano ispettori. Però non succedeva, perché? Perché c'era due interlocutori, l'appaltante e quello che prendeva. Quindi diciamo si lavorava dignitosamente, si lavorava umanamente e non succedeva queste stragi che sono stragi, ripeto, annunciate.